Ehi, salve a tutti per ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain Oggi andremo a vedere come velocizzare in praticamente due secondi il nostro iPhone X Ovviamente resettando la memoria RAM Andiamo a scoprire insieme come si fa Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai Allora ragazzi, eccoci qui Per resettare la RAM del nostro iPhone X e quindi velocizzarlo in un istante Bisognerà fare due semplici passaggi Il primo passaggio sarà andare all'interno delle impostazioni ragazzi Andare su Generali e successivamente andare su Accessibilità Una volta qui bisognerà attivare Assistive Touch ragazzi L'assistente praticamente che virtualizza alcune impostazioni senza dover utilizzare i tasti fisici Una volta ovviamente abilitato l'Assistive Touch torniamo indietro di due pagine ed andiamo qui sotto sulla sezione Spegni Una volta che apparirà la schermata di spegnimento premiamo l'Assistive Touch e premiamo il tasto Home Teniamolo premuto e iPhone farà una sorta di flash nero che riavvierà praticamente la memoria RAM e la resetterà completamente In questo modo il nostro iPhone sarà più veloce e performante perché avrà resettato completamente la RAM senza aver spento o riavviato il dispositivo Ve lo faccio rivedere ancora una volta Andiamo su Generali Ovviamente dopo aver attivato l'Assistive Touch andiamo su Spegni Successivamente premiamo sull'Assistive Touch e teniamo premuto il tasto Home per poter riavviare il nostro iPhone velocemente Resettando la memoria RAM Io come al solito ragazzi vi saluto vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate ci vediamo al prossimo appuntamento Siamo qui con Mirko per AppleZain.net e ciao Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net Grazie a tutti